I carabinieri della stazione di Casal di Principe hanno deferito in stato di libertà un 43enne ritenuto responsabile di maltrattamento di animali, ricettazione e abuso edilizio. L'uomo, a seguito di un controllo eseguito dai militari dell'arma unitamente al personale dell'unità operativa veterinaria dell'asola di Caserta e dell'ufficio tecnico del comune di Casal di Principe, è stato trovato in possesso su di un fondo di proprietà nel comune di Casal di Principe in violazione delle principali norme di tutela animale di un cammello 7 cavalli e 12 cani. Nella circostanza sono state altresì riscontrate violazioni edilizie e rivenute due coppie di targhe di autovettura risultate oggetto di furto. Gli animali sono stati sottoposti a sequestro e affidati in custodia giudiziale. Da Casal di Principe è tutto, Lorenzo Applauso Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!